Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come va? Spero che siate bene, che siete trascorrendo una splendida giornata e che abbiate trascorso una splendida domenica calcistica. Veramente una giornata di fuego, devo dire, oltre a parte il caldo. Comunque, andremo ad analizzare, anzi andrò a fare un piccolo commentino delle segare di oggi, quindi dicendo magari la mia, dando qualche spunto, però ecco, analizzando un pochino generalmente, nel senso non andrò specificatamente nei discorsi tattici o queste robe qui, ma allo stesso tempo non faccio neanche una cronistoria. Quindi ovviamente, a prescindere vi chiedo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale perché siamo prossime mille, e quindi rotto mille, is on the way, clicca la sua campanellina per rimanere aggiornare su attività del canale, ma ora andiamo veramente a parlare di queste sei partite di oggi perché comunque sono state sei e altrimenti viene un video di venti minuti e non ho voglia, non voglio tediarvi più che altro, perché altrimenti ho parlato di esempio di calcio, però comunque non voglio tediarvi ulteriormente. Andiamo alla prima, il match delle 12.30, Sampdoria e Inter conclusosi sorprendentemente 2-2, dopo che l'Inter appunto era andato in vantaggio, pareggio la Sampdoria, poi 2-1 Inter e 2-2 della Sampdoria. Un Inter un po' sottotono, dove diciamo un Barella che ha giocato bene, ma non benissimo, un reparto difensivo che ha fatto qualche errore, però purtroppo importante, ma in generale insomma un Inter non proprio brillantissimo. Sampdoria che ha giocato molto bene, molto quadrata, primo tempo molto equilibrato e l'Inter è andato in vantaggio grazie a una punizione bombo miseterare di Marco, finalmente il giovine terzino trova il gol anche in maglia interista. Poi un pareggio al Cambolesco di uscita, il 2-1 poi dell'Inter e il pareggio della Sampdoria. Un Sampdoria che ha schierato in campo, caputo Quagliarella e i movimenti ancora da registrare, un Candreva che ha giocato molto bene, la catena di destra della Sampdoria è andata veramente molto bene, però nel secondo tempo insomma Candreva qualcosina aveva avuto rivedere, nel senso che comunque a volte con la stanchezza che andava o puntava l'uomo non voleva sentirne, quando magari aveva Berezinski, Berezinski, altra grande partita, che soprattutto a volte si sovrapponeva o comunque si proponeva come soluzione a Candreva e che sul gol di Ugello ha fatto un assi della Madonna, perché col tacco si è portato sul sinistro, però sul secondo palo, da quarto a quarto, sinistro di Ugello, Andanovic battuto. Quindi il pareggio secondo me meritato, Cagli e Genova ore 15, anche qui il casino, perché Cagli sta vincendo 2-0, dopo il gol di Giovedo, di Cepitelli, dopo il Genoa si sveglia, così, viene buttato nella mischia Fares che nell'arco di 10 minuti, verso la fine partita ha fatto doppietta, Fares, che probabilmente era riservissimo nella Lazio, ora il Genoa si è scoperto ancora d'oro, però comunque Balardini, sempre un vecchio lupo di mare, che si sa barcamenare nelle difficoltà, è andato a sorprendere un Cagliari, che comunque a livello di organico, secondo me, è anche superiore al Genoa stesso, però la sagaccia tattica, diciamo, di Balardini, appunto, l'ha incartata e quindi con un po' di fortuna, gol di destra, poi doppietta di Faresi, insomma, l'ha sfangata. Poi Spezuinese, partita nata con le polemiche, perché viene stato un fallo su Pussetto, rigore assegnato, poi è stato un momento addirittura dopo il VAR, Pussetto per simulazione. Partita comunque, che si è, diciamo, sviluppata in un modo abbastanza, diciamo, non particolarmente fantastico, entra in campo verso l'ottantunesimo Samarzic, del quale ho fatto anche un video di presentazione, e trovate la playlist qui sotto in descrizione. Ottantunesimo, passaggio in mezzo di Mack'n'Go al limite dell'area Samarzic, gioco sinistro-destro, concluderete. Gol dell'Udinese che va a vincere la Spezia per 1-0, e la crisi dello Spezia è veramente, cioè non è che la crisi dello Spezia è veramente allucinante, siamo ancora terza giornata, però ragazzi, calcoliamo le difficoltà dello Spezia, un mercato un po' raffazzonato, hanno preso tanti giocatori, però con tanta in relazione al discorso delle sessioni di mercato bloccate da gennaio 4 per esattezza, però è un po' confusionario, ad ora un po' confusionario, di contro il Venezia ci togono molto meglio, lo Spezia invece ha preso giocatori come Antist, come Cher, come 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 come, come Burabia, oppure Strelecce, insomma tanti giocatori anche giovani, scommesse, che però ad ora non stanno rendendo, come anche giusto che sia, quindi stanno sufficienti per salvare lo Spezia? Boh, non lo so. Comunque fatto sta che l'Udinese ha battuto lo Spezia nei minuti finali, comunque uno Spezia, diciamo, tenace, che ha resistito per quasi 90 minuti. Torison Ernitana, vi annuncio che domani alle ore 10 uscirà uno speciale della lavagna tattica su questa partita, quindi su, incentrato su Juric e su determinate scelte che ha fatto, che ha avuto, che diciamo, che ha adottato il tecnico Granata, una vittoria schiacciante, un vittoria schiacciante che, diciamo, che è avvenuta però soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo partita discretamente equilibrata, il Torino ha creato, però Piazza si è mangiato qualche gol, ecco, è stato abbastanza equilibrato, una strada interna che si è difesa. Dopo il 45esimo, gol di Sanabria, e da lì il Torino ha preso totalmente campo, poi ha avuto il secondo gol, stacco di Bremer, e già, nel primo, aveva tentato la conclusione a rete, poi è arrivato il trazione di Popega su mischia, su calcio d'angolo, o meglio, azione, un po' convulsa, dopo un calcio d'angolo, e poi rete finale di Lukic, negli ultimi minuti di partita, quando poi il Torino, ovviamente, stava giocando con zero punte. Però, ripeto, non dico nient'altro, perché, appunto, domani uscirà il video, quindi, tifosi del Torino, non sono andato a vedere, attivate la campanellina, così domani verrà la notifica del video che va a uscire. Però è un Torino che si è ripreso dopo un ultimo giorno di mercato roboante, sembra essersi ripreso, Juric piano piano darà la sua grinta, sicuramente i Nesti come Zima, come Brecalo, come Praet, come Popega, daranno un valore in più alla squadra, e quindi, se il buongiorno si vede dal quasi mattino, diciamo così, insomma, il Torino potrebbe fare un bel campionato. Match dei 18, Milan-Lazio, anche qui, un match che fondamentalmente il Milan ha avuto in mano per la gran parte, insomma, dei 90 minuti più recupero. Un primo tempo che la Lazio era partita bene, però può stare schiacciata al Milan. Un po' di occasione anche per la Lazio, però, ripeto, il Milan ha sempre avuto, ha sempre avuto la sensazione di avere il match in mano. Un grande Tonali, veramente bravo, bravo, bravo Tonali. Dopo il gol del vantaggio del Milan, un rigore, sbagliato che sì, verso il finale del primo tempo, quindi, vedo, strano che il presidente va a sbagliare un rigore, e poi, alla fine, Assis, Direbic, su un gol, un'azione di contropiede, e gol, facilissimo. Ibrahimovic, che si stava lacciando a Scarpina, Scarpina, avrà un 65 di piede, però, che ha segnato, diciamo, in contropiede. quindi, vittoria meritata del Milan, così come è stata la vittoria meritata del Torino, e anche la vittoria meritata dell'Udinese, comunque, secondo me. Match serale, Roma-Sassuolo. Anche qui, un match particolare, perché è andato un po' a sprazzi. Una fase fuori di uno, una fase fuori dell'altro, pali da una parte, pali dall'altra, però, fondamentalmente, la Roma ha vinto, meritatamente, però, non in modo così netto. Comunque, è andato in vantaggio, dopo ha subito il gol, del Pioce di Sassuolo, per poi segnare, all'ultimo minuto, anzi, il secondo di recupero, grazie a un bellissimo gol di Sciarawi. Roma ha salvato anche da tanto così di fuorigioco, perché comunque poi, dopo il gol di Sciarawi, sembra il recupero, un bellissimo gol, di Scamacca, però, appunto, annullato, grazie, da virgolette, al VAR. Un palo di Torre, da parte, per il Sassuolo, anche a Roma ha avuto parecchie occasioni, veramente, i due portieri, consiglio di Patricio, tanto impegnati, ma veramente, hanno fatto delle ottime parate, hanno salvato il risultato, per entrambe le squadre, quindi, che dire, ha nel Milan, ottime prestazioni anche di Leao, oltetonali, anche Leao, ha giocato veramente bene, mi è parecchio piaciuto, Calabria è superabile, Calabria oggi era veramente una sala cinesca, metteva il piedone, se la palla andava sulla sinistra di Lazio, sulla fascia sinistra di Lazio, c'era Calabria, già ragazzi, io, il piedino, lo metto lì, e ti prendo il pallone. Comunque, ho cercato di fare un riassunto, veramente molto generale, ripeto, più che altro, ecco, darvi modo, magari se non avete visto le partite, darvi qualche spunto, vi invito magari ad andare a vedere, gli elites, di cercare ulteriori informazioni, sulle partite, ecco, ripeto, vi do un po' di input, e magari anche per intrattenervi, per questi dieci minuti, prima di andare a Nanna, perché domani è un altro giorno. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un like, iscrivete al canale, sfondate il bottoncino rosso, perché siamo prossimi mille, e attivate la campanina, per ricevere le feed, da parte appunto, del canale, in relazione ai video, che andate a pubblicare, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.